Il Molfetta continua a sognare. Al comunale di Terlizzi, padroni di casa vincono 3-1 contro i rivali nero-verdi del Corato e volano al terzo posto del campionato di eccellenza. È sordi da dimenticare per il neo allenatore del Corato Vito Castelletti, che rimodella la squadra affidandosi al 4-4-2 anziché al 4-3-3, con il rientro in difesa di Altares, oggi in campo dal primo minuto al posto di Colangione, e affidando le chiavi dell'attacco a Perna e di Rito, ancora a secco in campionato. Gli ospiti partono forte, e al quinto minuto sugli sviluppi del corner, battuto da Colella, Altares colpisce il pallone, pronta a entrare in rete, ma Dentamaro salva il risultato spazzando sulla linea. I bianco-rossi giocano un primo tempo sotto tono. L'unica occasione creata arriva da palla inattiva, con la conclusione di Capriati, che finisce poco alta dalla porta difesa da Casella. Al trentanovesimo minuto il Corato va in vantaggio su calcio di punizione, battuto corto da Colella. Altares, lasciato libero dalla difesa, con un pallonetto, infila la sfera in rete, sorprendendo Savutto. Un minuto più tardi il Corato sfiora il bis, con Piarulli, che servito da diritto spedisce il pallone sull'esterno della rete. Il primo tempo termina con gli uomini di Castelletti, in vantaggio per una rete a zero. La ripresa si apre con un Molfetta totalmente diverso, sceso in campo con un'altra voglia, e infatti al quarantasiesimo minuto trova subito il gol con Albrizio, che riceve palla da facecchia e lascia partire un tiro di collo esterno, che non lascia scampo a Casella. Per il numero 9 del Molfetta è il quinto centro in questo campionato. Al cinquantaseiesimo minuto, a Celti, atterra il nuovo entrato Vitale all'interno dell'area di rigore, con l'arbitro che concede il penalty tra le proteste degli ospiti. Dal dischetto si presenta lo stesso Vitale che realizza il gol del 2-1 per il Molfetta, con Casella che indovina il lato, ma non riesce a prendere il pallone. Il Corato cerca di pareggiare i conti con Piarulli, che lascia partire un destra angolato parato da Savut. Sul ribaltamento dell'azione il Molfetta, in contropiede, trova la via della terza marcatura, con Sallustio subentrato al posto di Albrizio, che dal limite dell'area di rigore lascia partire alla conclusione che gonfia la rete. Sul finire di partita il Corato prova a rendere meno amara la sconfitta, con il tiro di diritto che vede l'opposizione di Savut con i pugni. Al 93esimo minuto ancora pericoloso il Molfetta, con Vitale che scodella la palla in mezzo per Cormio, che non trova lo specchio della porta. La partita termina con il 3-1 dei padroni di casa, che conquistano tre punti fondamentali per rimanere aggrappati alle zone alte della classifica. Sprofonda ancora il Corato che non riesce più a vincere.